In diretta buongiorno alla rassegna stampa di oggi giovedì 19 marzo 2020, 7 e 44 minuti Per chi ci segue ovviamente sul canale 17 nella prima edizione del mattino Andiamo subito a vedere il santo del giorno, poi le previsioni del tempo e i giornali Oggi è San Giuseppe, lo sposo della Beata Vergine Maria Auguri allora a tutti quanti, a tutti quelli che portano questo nome E auguri anche ai papà, soprattutto quelli che stanno andando a lavorare Nonostante la situazione Il sole è sorto alle 6 e 11, tramonterà le 18 e 20 Per quanto riguarda il tempo, oggi avremo un cielo sereno o poco nuvoloso Domani, venerdì, ancora sulla costa sereno Sull'entroterra invece, nell'entroterra un po' di nuvolosità Le temperature in lieve diminuzione, soprattutto nella notte Sabato 21 marzo invece, teoricamente dal punto di vista del calendario Inizia la primavera, invece in questo caso inizia il maltempo Con piogge sparse, anche a carattere di rovescio Soprattutto in collina e in montagna Poi il tempo cambierà nei prossimi giorni Giornati di domenica con cielo irregolare Qualche pioggia Poi entrerà nella parte centrale, intorno a martedì Una perturbazione dai Balcani Che porterà un netto calo termico Andiamo adesso a leggere i giornali Partiamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Marche Nord Il titolo Il caso dei medici contagiati Nelle Marche l'11% dei positivi è tra gli operatori sanitari Media superiore a quella nazionale Il picco affermo Ieri purtroppo altri 23 morti L'appello di Ceriscioli Non dovete uscire Mascherine invece introvabili Farmacie sotto assedio L'intervista poi a centro pagina La fotografia che annuncia l'intervista Nelle pagine interne al rettore della Politecnica delle Marche Gianluca Gregori Che dice stavolta siamo veloci Non come il terremoto Questo invece è il resto del carlino L'edizione di Pesaro Tamponi agli operatori sanitari Ceriscioli anche 800 al giorno In tutte le Marche I sindacati lo screening Chiedono che vada fatto Praticamente a tutti quanti Fano, Piange e Berardi L'uomo della battaglia per il Lisippo Mentre il bilancio Il giorno nero Ieri 23 vittime 18 nel Peserese La fotonotizia invece Squadra anti-Covid La foto degli operatori del 118 in prima linea Operatori che dicono Ce la faremo Poi la buona speranza Gli spiragli erano gravissimi Ora invece non sono più intubati Mentre sul fronte delle aziende BS Tre giorni di stop Scontro Al Riva Cold Tamponi a tutti i sanitari Nuovo macchinario Marche Nord Ne processa anche 800 al giorno Ceriscioli annuncia la novità Ma i sindacati sono scettici Misure inadeguate Dicono Intanto il figlio Di una infermiera positiva Al coronavirus È stato ricoverato Al Salesi Analisi invece Anche per le forze dell'ordine L'appello di Marco Lanzi Il segretario del sindacato di polizia Del SIULP Ma al personale dell'RSA Chi ci pensa Settore extra ospedaliero Abbandonato a se stesso Nelle case di riposo È necessario adeguare le strutture Con percorsi separati E dotazioni personali Il virus corre 114 morti L'appello di Ceriscioli Per favore Non uscite Nella giornata di ieri Altre 23 vittime Tra cui un 58enne Senza patologie Scrive il Corriere Il governatore L'allerta è ancora altissima Bisogna rispettare i divieti Altri 196 contagiati Aumentano i dimessi Adesso isolati a casa Scatta la sorveglianza automatica E periodica Soprattutto per chi è in quarantena Morto il professore Alberto Berardi Da Fano Per il lisippo La battaglia di una vita Guerriero politico Fu consigliere e assessore Era malato da tempo Si è spento a 77 anni All'ospedale di Senigallia Oltre 50 anni di impegno cittadino Varò per primo Anche il progetto Flaminia Ricorderete poi L'uomo che ha avuto un malore Al porto di Fano Sul molo Il 68enne è stato dimesso Dopo un mese Trascorso all'ospedale Era stato soccorso Da un militare Da un medico Caverni Dell'associazione Fano Cuore Dice I defibrillatori Avete visto Sono in questo caso Necessari Partorisce in emergenza E scopre di avere il virus L'odissea di una mamma Amelia La puerpera E la figlia di un noto medico L'evento al San Salvatore Il racconto E le preoccupazioni di Stefania Battaglia La madre della giovane È un caso Che è stato registrato A Fano Mentre la denuncia Furti al Santa Croce Al Santa Croce di Fano Un equipaggio del 118 Che è stato derubato Il Carlino Lacrime sul carnevale Si è spento Berardi Fano intellettuale Brillante e appassionato Aveva 77 anni Protagonista Della vita culturale cittadina Si è battuto Per il rientro Dell'Isippo Il sindaco Seri Memorabili La sua verve E la vis polemica Addio a Federica 42 anni La donna che sognava Le piramidi Si chiamava Federica Leonardi Figlia di Giancarlo Presidente del Blue Volley E tra i fondatori Del Megabat Squadra di Montecchio Di Serie B1 Federica era la più grande Di tre sorelle Era disabile Soffriva di una malattia genetica Un ceppo della SLA Ma meno invasiva Bacchiocchi Positivo Ho visto 40 persone L'Asur Ha provveduto Ad avvertirle tutte Dice il segretario Cittadino Fanese Del Partito Democratico Alberto Bacchiocchi Che è a casa Con febbre da venerdì Ed è risultato Positivo Lui dice Solo un po' di febbre Intanto la Gianmarioli È arrivata A fine quarantena Il segretario Com'è stato contagiato Ha chiesto Anna Marchetti Del Carlino Dice sinceramente Non lo so Certo nei giorni scorsi Prima delle restrizioni Ho fatto diverse cose Il lavoro L'attività politica E il calcetto Può colpire dunque Dice lui Chiunque L'unica difesa È stare sigillati Sigillati Praticamente Dentro casa Poi sotto Farmaci per i malati Oncologici Dal Santa Croce A domicilio I volontari Faranno le consegne In tutti i comuni Dell'ambito In collaborazione Con l'azienda ospedaliera Marche Nord Attiva anche sul web La carta famiglia Che dà diritto a sconti E riduzioni tariffari E poi c'è un numero Per non essere soli Come essere vicini Agli anziani Che non hanno amicizie Parenti Il telefono da chiamare È questo che vedete qua 0721 887 483 Serve Per farsi consegnare Del cibo E per avere un po' Di conforto A casa Mascherine introvabili Le farmacie Sono sotto assedio Il dottor Avitabile Dice le consegne Sono bloccate È una richiesta Continua Continuano A rimandare Le consegne Da un giorno all'altro Spiega Il dottor Andrea Avitabile Che è il presidente Della Federpharma Della provincia di Ancona Tanto che noi farmacisti Continuiamo ad utilizzare La stessa mascherina Opportunamente disinfettata Perché Non riusciamo Proprio a trovarne Da nessuna parte Alcune forniture Sono state bloccate La dogana di Fiumicino Come nel caso Della Gammadis Farmaceutici Di Civitanova Che però Ieri ha annunciato Lo sblocco Delle 150.000 Mascherine Che attendevano E che serviranno Per rifornire Un mercato Completamente fermo Altri ordini Sono stati requisiti Dai paesi Di produzione E di transito Circa 19 milioni Di pezzi Acquistati all'estero Da aziende italiane E bloccati Per rifornire Il mercato interno Come ad esempio È accaduto In Francia Farmaco antiartrite Invece 8 su 11 Migliorano Negli ospedali Di Fano e di Pesaro Già iniziata La sperimentazione Con il medicinale Che blocca Il peggioramento Oggi al via In tutta Italia I medici Si attendono L'arresto Delle complicazioni Polmonari Nei casi Più gravi Un filo di ottimismo Arrivato invece Dalla rianimazione Sono stati estubati Due pazienti Si tratta Di due uomini Tra 60 e 70 anni Affetti Da polmonite bilaterale Il pronto soccorso Invece È off limits A Pesaro I malati Vanno fuori provincia Sempre più critica La situazione A Marche Nord L'avamposto Della guerra al virus Un'altra giornata nera Per i morti In condizioni difficili Anche alla RSA Galantara Intanto il selfie Dai sanitari in trincea Che dicono Ce la faremo Nei market Pochi guanti e mascherine L'allarme dei sindacati Anche la CNA È preoccupata Ancora denunce Per gli esercizi Commerciali Che sono rimasti Aperti E poi La richiesta Come abbiamo visto Del sindacato di polizia Che chiede Di fare tamponi Anche ai tutori Dell'ordine L'economia Legata all'epidemia Sarà la morte assistita Per tutte le partite IVA Dice il ristoratore Umberto Carriera Che guida Il gruppo regionale Che conta 3.500 aderenti Prevede una Ecatombe di licenziamenti Deve essere Un anno bianco Per la fiscalità Marche multiservizi Invece Per le bollette idriche Possibile La rateizzazione Oppure la scadenza Posticipata Dell'acqua Incontro con i sindacati L'ABS C'è l'intesa Per la cassa integrazione Degli operai A Urbino invece Gambini Sta per finire la quarantena Dice lui In un messaggio Facebook Vinceremo questa partita Tutti insieme Mentre C'è un altro Primo cittadino Che invece Combatte La sua battaglia Contro La malattia Contro il coronavirus Lui dice Ci rivedremo presto Davide Fabrizioli Il giovane sindaco di Petriano È tra i contagiati Dal letto dell'ospedale Era sicuro Ai suoi concittadini E ringrazia Praticamente Tutti quanti Compreso e soprattutto I sanitari Alessia e Giulia Tornate al volo Ultimo aereo Studiano rispettivamente A Madrid e Sofia Viaggio di oltre 17 ore L'ambasciata italiana In Bulgaria Ha fornito aiuti Su Facebook E poi Una telefonata Agli anziani Contro la solitudine Anche il comune di Pesaro Lancia l'iniziativa Pronto nonna Come stai? Confindustria 300 mila euro Per la sanità Il contributo maggiore Arriva dalla famiglia Selci Con 100 mila euro Il grazie Del direttore generale Degli ospedali Marche Nord Mentre le associazioni Chiedono di salvaguardare Il tessuto sociale L'ABS Chiude la produzione Per tre giorni Confesercenti APA Hotel E Confcommercio Chiedono sgravi fiscali Si appellano Agli istituti di credito Il gruppo Selci Usa la cassa integrazione Mentre si inasprisce Lo scontro Alla riva cold Di Montecchio Commercio e turismo Chiedono a Ricci Anche di intervenire Per calmierare Gli affitti Delle strutture Lavoro a distanza Che caos Comuni in ordine sparso I sindacati contro le amministrazioni Gli enti si sono limitati A mettere i dipendenti in ferie Facendoli ruotare Ma è un abuso Nel mirino a Montellabate I dipendenti sono stati richiamati A Durbagna le maestre In biblioteca Infine a Durbino Troppe persone in giro Mentre a proposito di smart working Di lavoro da casa Le mie ferie forzate Per l'inadeguatezza altrui È la denuncia di una dipendente Del municipio di Fano Con gli strumenti Ha detto I donei Con strumenti Avrei potuto Lavorare da casa Mi aspettano solo Mi spettano solo 28 giorni l'anno E mi scoccia A sprecarli Per l'inefficienza altrui A dire tutto questo È Angela D'Alessandro D'Alessandro scusate Dipendente dell'economato Nel comune di Fano E c'è invece A distanza Si è laureato Alessandro Ciocchetti Che ha discusso La sua tesi Di fronte al computer Dopo 5 anni Di studio Di sacrifici Per poi laurearsi Davanti allo schermo Di un computer E stringere solo Virtualmente la mano Alla commissione Alla fine Della discussione È la storia Di questo 25enne Pesarese Che l'11 marzo Ha concluso In maniera davvero Particolare Questo suo percorso Di ingegneria Gestionale Magistrale Da solo Anche se rigorosamente Con la giacca Collegato al suo pc Con l'università di Bologna Grazie alla piattaforma Microsoft Team Mi sono collegato Da un ufficio di Lugo Dice lui Dove facevo tirocinio E poi insomma Appena possibile Festeggerò Festeggerò presto Questa invece È la pagina Sempre del resto Del carlino Sospendere le tasse Si può Ecco chi l'ha fatto La maggioranza dice no Alla proposta Del centrodestra Che giudicano Impraticabile Ma alcuni comuni Si sono già mossi Su imposte E strisce blu Stop ai cantieri È un effetto domino Ferme anche Le scogliere di Ponente Appesero Cardinale Di CNA Balneatori Dice Era un intervento Atteso urgente Se ne riparlerà Comunque In autunno Nel frattempo I bagnini Hanno raccolto Oltre 3.000 euro Per aiutare Il San Salvatore Intanto Dopo la fusione Pesero Monteciccardo Il personale È stato trasferito Dalla città Capoluogo Al piccolo Ex comune Prime e temporanee Soluzioni Prodotte Dal processo Di fusione Mentre La valle del Cesano La pagina Si occupa Di una segnalazione Scaricano rifiuti Al campo Di aviazione Denuncia fotografica Di Puliamo Fano C'è chi approfitta Della situazione Per agire indisturbato Furgoncino nel mirino Dell'associazione ambientalista E poi sotto Pagamenti e divieti Le misure dei comuni Anche a Fratterosa Partito il servizio A domicilio San Costanzo Tari Tari Posticipata Questa è la pagina Di Pesero e provincia Dove da Cagli Lavori all'eli superficie Il nuovo soccorso Diventa realtà Si tratta di un intervento Fortemente atteso Dai residenti Dell'entroterra Si concretizza dunque Il protocollo Che è stato siglato Due anni fa Dall'Unione Montana Vedete la superficie Interessata Da questi lavori Lavori per Leli superficie E mentre a Monbaroccio Dice addio Allo storico benzinaio E' morto a 80 anni Giannetto Pandolfi Deceduto Per un arresto Cardiaco Mentre sotto Di taglio basso Sempre da Pesero Scomparso Gino Della Chiara Signore dei divani Aveva 86 anni Ricordo affettuoso Della figlia Marinella E questa era L'ultima pagina Della nostra Rassegna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro Una buona giornata Un buon proseguimento Insieme anche a noi Di Fano TV Cercheremo nel nostro Piccolo Di farvi compagnia Anche ritrasmettendo Qualche programma Del passato Programmi Che comunque Tengono un po' compagnia Tengono un po' su di morale Ma non dimentichiamoci Che oggi La Chiesa Cattolica Italiana La Conferenza Episcopale Italiana Chiede a tutti Questa sera Alle 21 Di unirsi In un momento di preghiera Ieri sera abbiamo Già mandato in onda Il rosario Dalla Santa Casa di Loreto Con il Vescovo L'Arcivescovo Dalcin Questa sera faremo la stessa cosa Alle ore 21 Un appuntamento Dopo il telegiornale Da non perdere Un appuntamento importante I Vescovi invitano anche Ad accendere una candela E di metterla Di porla Sul davanzale di casa Sulla finestra di casa Facciamolo È ora di guardare al cielo È ora che dobbiamo Chiedere aiuto A chi sta sopra la tempesta Il buon Dio E allora Ci fermiamo qui E ci diamo appuntamento A stasera Alle 20 e 30 Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti